è un giorno tranquillo e in un campo di calcio si sta eseguendo una partita i giocatori sono dei semplici ragazzi non si danno la benché minima tregua durante la partita di certo non andranno a prendersi un tè caldo quando arriverà la fine primo tempo il ragazzo più figo va verso la porta quando ecco che accade l'incredibile il ragazzo avvista un ufo e si blocca all'istante un avversario gli frega la palla e si precipita verso la porta a fare gol i compagni vanno verso di lui e cominciano a pestarlo lui tenta di indicare l'ufo ma è tutto inutile entra anche il pubblico a pestarlo ormai è il caos più completo il poverino è a terra senza sensi forse senza vita io avevo giocavo tiravo andavo alla portina è arrivato un figlio dal cilinio e non lo tiravo diventato fermavo e non lo picchiavo mi ha fatto forzao non ho fatto più niente è andato a segnare l'unico consiglio che possiamo darvi è di non guardare gli ufo mentre giocate a calcio